Nel periodo invernale si tagliavano gli alberi e si faceva il carbone. Una bella fattoria. Murino a vento è il posto dove è nata mia madre. Si produceva vino, c'era del bestiame. Qui naturalmente si vede tutto davanti a noi. Si vede il mare, il mare che sembra di averlo in casa proprio, nel vero senso della parola. Di fatto io la passione del mare posso dire, perché chi me l'ha suggerita proprio questo posto. Murino a vento è il posto dove è nata mia madre. Si produceva vino, c'era del bestiame e ci venne una fattoria. Una fattoria che era poi mio nonno, il padrone. Naturalmente qua, nel pesce di questo punto, una bella fattoria. Si produceva buon grano, si produceva vino, c'era del bestiame. Nel periodo invernale si tagliavano gli alberi e si faceva il carbone. E poi quello che soprattutto a me mi ha sempre colpito era che di qui si vede tutto. Si vede il mare, il mare che sembra di averlo in casa. Nel vero senso della parola. Nel vero senso della parola. Un早o! Grazie a tutti